Ad è stato clamore il maxi blitz relativo all'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Campobasso sulla droga in carcere al penitenziario di Larino. I controlli effettuati dai militari dell'arma, dei carabinieri, agenti di polizia penitenziaria del nucleo centrale di Roma, hanno riguardato tutti i settori del carcere, compresi gli uffici amministrativi e le oltre 50 celle, tra cui anche quelle della sezione di massima sicurezza. In alcune di esse sarebbero stati rinvenuti quantitativi di droga poi sequestrati, oltre ad alcuni cellulari. Oggetto di indagine, anche il laboratorio di pasticceria del penitenziario frentano, già al centro di un'altra inchiesta della procura frentana nel 2018, sempre per droga, a cui sono stati apposti i sigilli. Prelevati i registri in cui sono annotati ingressi ed uscite di personale visitatori. La documentazione è ora al vaglio degli inquirenti al lavoro per individuare i responsabili del presunto traffico di stupefacenti. 18 le persone indagate, tra cui anche la direttrice del carcere, Rosa Laginestra. Per lei si tratterebbe di un atto dovuto in questa fase delle indagini. A poche ore dalla notizia relativa alle perquisizioni nella casa circondariale di Larino, il segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo, ha espresso sconcerto e chiesto chiarezza, nonché manifestato solidarietà alla direttrice. Per la nostra conoscenza della direttrice del comandante, scrive, ci sentiamo di escludere responsabilità dirette, ma in ogni caso, proprio nel loro interesse e in quello del corpo penitenziario, sollecitiamo celerità di indagine.